Benvenuti su questo canale. Questa è una breve storia per migliorare il vostro livello di comprensione dell'italiano. Nel primo ascolto ci saranno i sottotitoli in italiano. Il secondo ascolto sarà con i sottotitoli in italiano e in inglese. Mi chiamo Lia e voglio raccontarvi della nuova avventura lavorativa intrapresa da me e mio marito Filippo. Viviamo a Verona, una città magica e ricca di storia. Insieme abbiamo deciso di trasformare la nostra casa in un accogliente bed and breakfast. La nostra giornata inizia presto. Appena svegli, Filippo ed io ci godiamo un caffè caldo e poi ci immergiamo nel lavoro e ci prepariamo per accogliere gli ospiti al loro risveglio. Incominciamo a preparare i tavoli nel grande e luminoso salone delle colazioni. Dieci tavoli rotondi coperti con tovaglie bianche impeccabili vengono allestiti con cura. Posizioniamo le sedie, i tovaglioli, i piatti, le posate e i bicchieri creando un'atmosfera accogliente e familiare. La colazione è una parte speciale della giornata. Filippo ed io tagliamo a fette il pane fresco per metterlo nel tostapane e renderlo croccante. Poi sistemiamo sul tavolo una varietà di marmellate fatte in casa con fragole, ciliegie, fichi, prugne, albicocche e pesche. Dopodiché riempiamo la vetrinetta con brioche irresistibili al cioccolato, alla crema, alla frutta, alle nocciole, ai pistacchi e molto altro. Su alcuni tavoli ci sono dei cesti pieni di panini appena sfornati e di arance fresche che attendono di diventare una deliziosa spremuta. La macchina del caffè rilascia l'aroma avvolgente della miscela appena macinata e la grande selezione di cialde soddisfa i gusti di ogni ospite. La macchina per montare il latte ci permette di creare cappuccini spumosi e irresistibili. Per chi ama il tè abbiamo un angolo dedicato con un bollitore per l'acqua calda e una vasta scelta di tè. Ci sono tè verdi, neri, rossi e al bergamotto. Per chi vuole rilassarsi ci sono le tisane. Ne abbiamo di diversi tipi, quelle antiossidanti, depurative, digestive o semplicemente rilassanti. Più tardi, quando gli ospiti sono fuori a visitare la città, Filippo ed io ci impegniamo nella pulizia e nel riordino delle camere. Prepariamo i letti con lenzuola pulite e profumate offrendo cuscini morbidi che possono essere di piuma o antiallergici. Le coperte di lana e le trapunte aggiungono ulteriore calore e comodità. Ogni camera è dotata di una scrivania e di una tv e il punto forte è la porta-finestra che conduce a un bel terrazzo panoramico che durante i tramonti regala momenti di pura magia. Abbiamo ospiti provenienti da tutto il mondo. Filippo ed io siamo sempre a disposizione per rispondere alle domande dei nostri ospiti e rendere il loro soggiorno indimenticabile. Filippo ed io desideriamo che i nostri ospiti si sentano coccolati. Ora ascoltiamo la storia con i sottotitoli in italiano e in inglese. Mi chiamo Lia e voglio raccontarvi della nuova avventura lavorativa intrapresa da me e mio marito Filippo. Viviamo a Verona, una città magica e ricca di storia. Insieme abbiamo deciso di trasformare la nostra casa in un accogliente bed and breakfast. La nostra giornata inizia presto. Appena svegli, Filippo ed io ci godiamo un caffè caldo e poi ci immergiamo nel lavoro e ci prepariamo per accogliere gli ospiti al loro risveglio. Incominciamo a preparare i tavoli nel grande e luminoso salone delle colazioni. Dieci tavoli rotondi coperti con tovaglie bianche impeccabili vengono allestiti con cura. Posizioniamo le sedie, i tovaglioli, i piatti, le posate e i bicchieri creando un'atmosfera accogliente e familiare. La colazione è una parte speciale della giornata. Filippo ed io tagliamo a fette il pane fresco per metterlo nel tostapane e renderlo croccante. Poi sistemiamo sul tavolo una varietà di marmellate fatte in casa con fragole, ciliegie, fichi, prugne, albicocche e pesche. Dopodiché riempiamo la vetrinetta con brioche irresistibili al cioccolato, alla crema, alla frutta, alle nocciole, ai pistacchi e molto altro. Su alcuni tavoli ci sono dei cesti pieni di panini appena sfornati e di arance fresche che attendono di diventare una deliziosa spremuta. La macchina del caffè rilascia l'aroma avvolgente della miscela appena macinata e la grande selezione di cialde soddisfa i gusti di ogni ospite. La macchina per montare il latte ci permette di creare cappuccini spumosi e irresistibili. Per chi ama il tè abbiamo un angolo dedicato con un bollitore per l'acqua calda e una vasta scelta di tè. Ci sono tè verdi, neri e rossi e al bergamotto. Per chi vuole rilassarsi ci sono le tisane. Ne abbiamo di diversi tipi, quelle antiossidanti, depurative, digestive o semplicemente rilassanti. Più tardi, quando gli ospiti sono fuori a visitare la città, Filippo ed io ci impegniamo nella pulizia e nel riordino delle camere. Prepariamo i letti con lenzuola pulite e profumate, offrendo cuscini morbidi che possono essere di piuma o antiallergici. Le coperte di lana e le trapunte aggiungono ulteriore calore e comodità. Ogni camera è dotata di una scrivania e di una tv e il punto forte è la porta finestra che conduce a un bel terrazzo panoramico che durante i tramonti regala momenti di pura magia. Abbiamo ospiti provenienti da tutto il mondo. Filippo ed io siamo sempre a a disposizione per rispondere alle domande dei nostri ospiti e rendere il loro soggiorno indimenticabile. Filippo ed io desideriamo che i nostri ospiti si sentano coccolati. Se ti è piaciuta la storia metti un mi piace e iscriviti al canale. Grazie per l'ascolto!